del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria Regina della Pace Prega per noi. Recitiamo i Misteri della Luce. Nel primo Mistero della Luce si contempla il Battesimo di Gesù al Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazareth, di Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli, e lo Spirito discendere su di Lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo. Tu sei il Figlio mio prediletto, in Te mi sono compiaciuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dati oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non indurci tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Maria Regina della Pace. Prega per noi. Nel secondo mistero della luce si contemplano le nozze di Cana. La madre disse ai servi, fate quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai Suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la Sua gloria, e i Suoi discepoli credettero in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi. Nel terzo mistero della luce si contempla, l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recone la Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Padre nostro che sei nei cedi, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci inturre in dentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero della luce, si contempla, la trasfigurazione di Gesù sul tabor. Gesù prese con sé, Pietro, Giacomo e Giovanni, e salì sul monte a pregare, e mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. D'escrivoci il nostro pane e corrigiamo, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci inturre in tendazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli e secoli. Amen. L'ho dato sempre sia. Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe di Maria. O Gesù. Perdone le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porti in cielo tutte le anime, specialmente le più disegnose, e la Tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero della luce, si contempla l'istituzione dell'Eucarestia. Mentre mangiavano, prese il pane, e pronunciata la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo, prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, e rese grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti, e disse, questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia. Nel Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in giro tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, Noè e sui figli di Eva. A te sospediamo, gementi ripiengenti, in questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi, occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, O pia, O dolce vergine Maria. Litanie della Madonna, Signore e pietà, Signore e pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Signore e pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre Celeste che sei Dio, Abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, Abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, Abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Vergine Sapiente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine Potente, prega per noi, Vergine Clemente, prega per noi, Vergine Fedele, prega per noi, Specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra gioia, prega per noi, dimora dello Spirito Santo, prega per noi, dimora colma di gloria, prega per noi, dimora consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi, vergine potente contro il male, prega per noi, splendore di grazia, prega per noi, arca della nuova alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori. Prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del santo rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi fietà di noi, Signore, Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti i beni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Dio, il Tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la Sua vita, morte e risurrezione, a noi che con il santo rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo un Padre nostro, Nave Maria, un gloria al Padre, per il Papa, per la Chiesa e in soffraggio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nel cielo, che ho santificato il tuo nome, venga il tuo regno, che ho fatta la tua volontà, come il cielo così in terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci da ogni male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, sfumere nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Giuseppe A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardatene preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte, la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio, dalle ostili insidie, e da ogni avversità. Estendi ogni ora, sopra ciascuno di noi, il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Maria Regina della Pace, prega per noi, e concludiamo la recita del Santo Rosario, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.